IMAGE nasce nel 1986 ad opera mie e di Tiziano Fiorini, su un background culturale e professionale proveniente dall'esperienza della cooperativa Supergruppo e della casa editrice SG e dai miei anni di insegnamento della grafica al centro Albestainer di Ravenna. A partire dal 1996 IMAGE cambia pelle, si trasforma, trasferisce la sede negli attuali locali di via magazzini posteriori, inserisce nuovi collaboratori tra i quali gli storici Francesca Zini e Riccardo Galeati. Nel 2000, con Michele Casamenti ed altri partner, IMAGE crea eDesign, sezione dell'agenzia specializzata nel design di allestimenti e nella progettazione di artefatti per la comunicazione. Tuttavia, IMAGE rimane aderente alla cultura del progetto da cui proviene. Compie per intero il passaggio dallo studio grafico all'agenzia di comunicazione, dalla grafica alla comunicazione di pubblica utilità, dal progetto grafico 2COOL alla pianificazione strategica della comunicazione. In questo decennio, l'agenzia sviluppa progetti di comunicazione, fornisce consulenze, elabora strategie per importanti realtà pubbliche e aziendali sul territorio provinciale, su quello regionale ed anche extraregionale. Voglio ricordare la lunga collaborazione con l'azienda Ambiente di Ravenna, ora Gruppo ERA, e in particolare il profondo e articolato lavoro di comunicazione sulle tematiche della raccolta differenziata. La struttura fortemente sistemica, inusuale in ambito turistico, dell'immagine e della comunicazione per l'Unione Prodotto Costa dell'Emilia-Romagna. Il carattere esemplare dei progetti di identità turistica per il Comune di Bertinoro e di comunicazione ai cittadini per il Comune di Alfonsine. La natura interdisciplinare e integrata del progetto Rimini Intorno per la definizione di un sistema di identità delle rotatorie nella provincia di Rimini. Grazie.